Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Campbell Harrison, atleta delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha attirato l'attenzione perché ha baciato il compagno in diretta televisiva. Il campione di arrampicata ha spiegato via social il motivo di questo gesto. Dopo la sua gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, Campbell Harrison ha raggiunto il suo compagno Justin e gli ha dato un bacio sulle labbra. Non si tratta di un coming out, visto che aveva già annunciato di essere omosessuale, ma c'è un motivo preciso dietro a quest'azione. Le critiche non sono mancate come previsto. Dopo la competizione alle Olimpiadi 2024, Harrison è stato intervistato da un giornalista riguardo al bacio dato al compagno e alle critiche ricevute. Senza mezzi termini, lo sportivo ha dichiarato, spesso diciamo che la società sta diventando più progressista, ma la realtà è diversa e questo è il motivo per cui in pochi fanno coming out. Campbell Harrison, nonostante non abbia vinto una medaglia alle Olimpiadi 2024, ha comunque ottenuto una vittoria importante. Ha dato una lezione agli omofobi. Ha affermato, sono gli omofobi e i bigotti che dovrebbero sentirsi fuori posto nello sport, non io, non Justin, non le persone gay che cercano solo di vivere la propria vita senza dover nascondere chi sono. Il gesto di Harrison ha suscitato dibattiti e discussioni sulla tolleranza e sull'accettazione nell'ambiente sportivo, dimostrando che la lotta contro l'omofobia è ancora attuale e necessaria. La sua azione ha rappresentato un messaggio di inclusione rispetto?